Quella che vedete lì in fondo è l'isola di Pasqua e nasconde un terribile segreto Ossia questo gigantesco e misterioso uovo Che potremo aprire solo trasformandoci in una capra tartaruga ninja E attivando questi strani simboli sulle teste delle statue Siete pronti? E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico Vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace Che fa sempre piacere Buona visione Come mi piace tutto l'aria nell'elba Mi piace così tanto Ok Buongiorno ragazzi No voi non potete parlare Vieni qua Body slam Vieni di nuovo Vieni di nuovo qua No anche tu Body slam La capra più pazza del mondo è tornata Guarda Oh i trick Aia sono caduta Aspetta I trick Questo mi sa che non è un tri Ragazzi ho rotto il gioco Mi sta continuando a fissare E sta continuando a girare ed applaudire Mi scusi Può darmi una mano Guarda Olè Olè Guarda qua Guarda che trick shot Olè Mamma mia Mamma mia Testata Bo bo Testata Sì Ve vi starete chiedendo Oh aereoplano Io sono la capra aeroplano Vola capra aeroplano Ti plano in testa Vieni qua Vieni qua Ti prendo E ti lancio Sì Le ho spezzato il collo Anche il mio A quanto pare Sono diventato uno struzzo Non fare le foto Non fare le foto Ehi Le foto non le puoi fare Non le puoi fare Non le puoi fare Vai Vai a fare le foto negli alberi Guarda te Oggi siamo tornati su Goat Simulator Guardate quanto sono sexy Con questi occhiali E con le palline da tennis Sulle corna E ovviamente Con la tuta di fallout E le scarpette dorate Perché abbiamo una missione speciale Da compiere Ci trasformeremo In delle tartarughe ninja E no Non sto scherzando Prima però Dobbiamo recarci qui Sull'isola di Pasqua Sì Avete capito bene L'isola di Pasqua Che tra l'altro Dovrebbe essere anche vicina Brom Brom Inizio a driftare Vai Boh Sì Non vi dovete mettere Davanti a me Quando corro Tu Vieni con me Sarai il mio animale domestico Anzi no Boh Boh E te Te Tutti quanti Sì Se metto la mano Sulla S di stop Diventa top Top Sì Sono pazzo Oggi sono completamente pazzo Guardate l'isola di Pasqua Ci sono le statue giganti Nelle rocce C'è una padella gigante Ragazzi Una padella gigante Un uovo distrutto E un uovo intero Che noi dovremmo aprire Dopo esserci trasformati In tartarughe ninja Aspetta un attimo Guarda quanto è bella sta macchina Oh sì Sì Fire Boh Eh Posso guidarla No mi sa di no No ma io posso nuotare È vero Perfetto Sto arrivando Devo trovare Mi sa delle uova Per aprire poi Quell'uovo gigante Non ci posso credere Ma rimbalza Rimbalza sull'uovo Che figo Ma qui c'è Una piccola statua Al contrario Tutto a posto bro Tecnicamente La missione dovrebbe Attivarsi Da queste parti Perfetto Nuovo evento Rottura uova Ok ci sono delle piume giganti Delle impronte E c'è letteralmente Una scatola di uova Ah Dobbiamo mettere Tutte le uova Per poi rompere Quella gigante Oh guarda qua Aspetta Voglio prima analizzare L'uovo gigante No vabbè È bellissimo Fammelo rompere Posso vedere cosa C'è dentro Mi sono arrampicato Tipo spiderman Però qui ci sono Delle piume dappertutto Si fa molto intrigante What? Questi sono pulsanti No no Aspetta Aspetta Ci sono delle capre Raffigurate sopra E c'è un cucchiaio Non ho capito Ma presto capiremo E qui c'è un uovo Va bene Devo prenderlo Devo romperlo Oh mamma mia Si è aperto un portale Che sta cacando Delle statue coniglio Ah Mi ha dato le orecchie Da coniglio Che figata Guarda Super orecchie Oh non ci posso credere Cosa posso Fare Ho aperto L'aereo Aiuto Usa le super orecchie Per trovare E rompere Una dozzina Di uova nascoste Come pensavo Dobbiamo rompere 12 uova Per poi sbloccare Quello gigante Che figata E tecnicamente In queste uova Si nasconde anche Il costume Da tartaruga ninja Non vedo l'ora Di sbloccarlo Guardate Ci sono uova Ovunque Uov Uova Uv È così difficile Parlare Ma perché Ah Le orecchie Del cappello Puntano alle uova Ciao Optimus Prime Tutto a posto Boh Boh Vieni Optimus Prime Vieni Uno contro uno Cosa sta succedendo Cosa sta succedendo Vabbè Io non ho fatto niente Devo andare Ciao Grazie Arrivederci Dicevo le orecchie Puntano alle uova Alle uova È difficile Se io mi giro Verso sinistra Le orecchie vanno Verso destra Ma verso destra Le orecchie vanno Verso sinistra Quindi devo andare Dritto di là Ma lì c'è la fabbrica Mamma mia Sono Va bene Magari ero Spider-man Adesso non lo sono più Questa è la fabbrica Dove abbiamo sbloccato La banana Sì Vai Che figata Devo trovare E distruggere Tutte le uova Per sbloccare Il costume Da tartaruga ninja Ma non è vero Va verso l'alto Ma va verso il basso Ragazzi Ma è rotto Non ci posso credere Non ci posso credere È rotto Seguirò questo sentiero Molto più semplice Circa Ci siamo quasi Le orecchie puntano Da questa parte Sai dirmi dove sono Levati Oh L'ho fatto rimbalzare Eh Sì Va bene Ah è vero Io posso rimbalzare Ma posso anche salire Sui palazzi Le orecchie puntano Da questa parte Salve scienziata Vuole venire con me A darmi una mano Venga Venga Spacca tutto Spacca tutto Sì Dov'è l'uovo È là Ok probabilmente Si trova da queste parti Le orecchie puntano qui sopra Aspetta Bello il camion banana Aspetta Aspetta Sali Sali No no Devi salire bro Devi salire Allora prima di tutto Sali sul camion banana Sali sul camion banana E poi sali Sali Rimbalzo Rimbalzo Ecco l'uovo L'uovo ha un cappello di banane Perfetto Abbiamo rotto il secondo No Ma Quante uova ci sono Ma che fai Mi prendi in giro Oh Non ci posso credere Che cos'è Una sella dinosauro No vabbè Sella spara uova Posso sparare le uova Ma non spara le uova Ma scusami Ma mi prendi in giro Continuamente Ho rimesso questa specie Di paracadute Perché secondo me È molto meglio Infatti l'altro uovo Dovrebbe trovarsi qui Guardate C'è una piuma Quindi anche le piume Mi conducono alle uova Salve Oh Boh Sì Fate yoga Sì Oh mamma mia Questo Ha uno scudo Ragazzi questo ha uno scudo Non ci posso credere Guarda Non posso distruggerlo Ma è fortissimo Va bene Non fa niente A me servono le uova Al momento No 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 Però ti devi arrampicare Se non ti arrampichi Impazzisco Ecco le uova Sì Che cosa mi ha dato Che cos'è La testa di una gallina Non ci posso credere Testa di gallina Stanno cacando galline dal cielo Ma guarda quanto sono bello Ho dovuto togliere La testa di gallina Perché ovviamente Senza le mie orecchie Non so dove sono Le uova Guarda come vibrano Guarda come vibrano C'è un uovo qui Da qualche parte Mi scusi Buon uovo Volevo dire buon uomo Sa dirmi Dove si trovano le uova Mi sono cagato addosso Ah L'uovo è lì sopra Il tombino mi ha fatto cagare addosso Cosa mi dà I Eh ragazzi Quello è un costume Da pollo gigante Sì ma io voglio quello da tartaruga ninja Guarda Guarda Ma scusami Ma scusami Cosa ho trovato Cosa ho trovato Cosa ho trovato Esattamente Zitto 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 citto Zitto citto Oh mamma mia Si è perso nell'iperspaccio Sì ho capito Orecchie un attimo ma dove si trova l'uovo sono un po confuso qui c'è della gelatina che schifo c'è una piuma eccolo eccolo perfetto siamo a 7 su 10 ne mancano 8 9 10 11 12 ne mancano 5 non so contare cosa ho sbloccato che cos'è che cos'è capra con cerniera cioè è una capra vestita da capra sì ma è la cosa più creepy e horror che io abbia mai visto comunque sento che siamo vicinissimi al costume delle tartarughe ninja non vedo l'ora di diventare una capra tartaruga ninja una capra ninja vado sulla bici niente io le bici non le so guidare le orecchie mi dicono di andare dritto e io andrò dritto volando aspetta aspetta voglio atterrare su questa papera aspetta atterra sulla papera sono troppo forte orecchie ma dove mi state conducendo quella è la diga no l'ultima volta è successa una cosa brutta la diga l'ho tipo sfondata vai a posto hai trovato l'uovo mi sa di no aspetta aspetta ok probabilmente quindi si trova aia aia che botta si trova sulle sponde della diga una cosa del genere perché qui cambiano i colori no 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 mi dà fastidio dove dove si trova l'uovo le orecchie stanno cominciando ad impazzire eccolo eccolo ok piccione levati dall'uovo oh ma il guscio delle tartarughe ninja sì 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 la trasformazione sta avendo inizio ho trovato anche le orecchie da tartaruga e i piedi da tartaruga certo le orecchie sembrano tipo quelle di shrek ma non fa niente la trasformazione ha avuto inizio no vabbè ragazzi ci servono la maschera e il colore da tartaruga dove li trovo per favore fatemeli trovare all'istante io non vedo l'ora brum brum no aspetta aspetta le orecchie mi dicono di andare a sinistra sì ho rubato un trattore ragazzi per fare prima oh ragazzi aiuto aiuto spostatevi scusate se disturbo il vostro campeggio io non vorrei mai investirvi e infatti mi sono incastrato va bene va bene non fa niente aspetta ma lì c'è un uovo ah ecco devo andare nell'acqua e qui c'è una piuma queste piume sono molto sospette e c'è un uovo che sta pescando ah un uovo che pesca non ci credo questo è il colore da tartaruga ninja che cosa ho sbloccato no non è il colore è la maschera da tartaruga ninja non ci credo non ci credo sto impazzendo ho anche la pelle da tartaruga aspetta aspetta devo levare il costume levo il costume ragazzi ragazzi sono una capra ninja ok e mancano solo due uova ti prego dammi anche tipo la spada o in un ciaco dammi qualcosa non ci credo la capra ninja esiste ed è viva non badate a me sono una capra ninja che però momentaneamente non ha la maschera ma un cappello da coniglio ok sta vibrando si trova qui sopra no no devi salire eh guarda che impazzisco guarda che impazzisco è qui sopra no non è qui sopra forse è lì sopra aspetta capriola no no aia aia mi spezzo sempre le gambe vai vai sali sali mamma mia maledetta capra ok tecnicamente io posso salire qui cos'è questa roba signor gamberetto aspetta un secondo posso fare così posso fare così yeah boy guarda guarda si è palesemente qui no no aspetta aspetta si uovo bo ma sono dei biscotti mi ha dato il costume biscotto no 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 che cosa vuoi oi dammi subito il guscio di tartaruga imbecille tenete prego queste sono tienne che dolore ma è stato divertentissimo sto leccando un biscotto buono l'altra dovrebbe trovarsi relativamente vicina fammi aprire il paracadute ho dimenticato di non avere più il paracadute uovo dove sei mi scusi con questa macchina maledetto infame imbecille maledetto infame imbecille vieni qua vieni qua ti spacco di botte riprenditi questo tizio aia 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 va bene va bene lasciamo perdere ok devo trovare le ultime due uovo uovo quelle devo trovare le ultime due probabilmente si trovano qui da qualche parte in città aspetta le orecchie puntano di qua ma qui c'è solo un fruttivendolo aspetta forse devo fare il giro o semplicemente ancora non sono arrivato no infatti devo andare dritto orecchie per favore guidatemi alle ultime due uova possiamo farcela possiamo distruggere l'uovo gigante che si trova sull'isola di pasqua sì ma dove sono le uova ci diamo una mossa oh oh guarda guarda come vibrano ok quindi sono qui dentro cosa sta succedendo eh signor uovo tutto bene cos'è 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 mi ha dato i piedi uovo bello camminare sulle uova geniale usa f per trasformarti in un uovo io io non ho parole io non ho parole per quello che sto vedendo cosa è successo a questo camion cioè sono un uovo posso schiantarmi contro le persone no non posso e invece sono una capra sono una capra sono uscita dall'uovo e adesso vi prendo a testate boh boh more io seguo le orecchie io ascolto le orecchie io mi fido delle orecchie eh sì eh manca l'ultimo uovo ma questo è uno spaventapasseri sì 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 vai a spaventare le ruote delle macchine no ok questo è stato il karma guarda come vibrano sì eh dove è l'uovo aspetta da questa parte posso spaccare guarda eh aspetta ecco l'uovo come faccio a spaccare verso il basso perfetto rottura uova si è glicciato tutto what ragazzi ragazzi sono diventato un coniglio glicciato e bugs bunny sotto acidi e bug bunny e bug bunny perchè è buggato è geniale posso scegliere il colore di tutte e quattro le tartarughe lui lui io adoro leonardo è il mio preferito eccolo lì il grande uovo sì è il grande salto dove mi sono spezzato le gambe sto arrivando dobbiamo capire come aprirlo ragazzi chissà cosa c'è dentro però essendoci delle piume sparse un po ovunque secondo me ci troviamo un nuovo animale e qui ci sono le mini statuette con il casco da coniglio sì ma adesso come lo apriamo apri l'uovo oh wait stanno oh guarda che cosa sta succedendo che cosa sta succedendo ah dobbiamo premerli tutti aspetta sì eh e là sono un po confuso che cos'è che cos'è è un cucchiaio gigante è un cucchiaio gigante che sta volando nell'iperspazio no vabbè no vabbè ma che stai dicendo adesso il cucchiaio va aprire l'uovo no 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 tu sei pazzo guarda il sacro cucchiaio che apre il sacro uovo no vabbè io 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 non ci posso credere non ci posso credere cosa sto guardando c'è questo il video più epico bello e assurdo di sempre è oh mamma mia c'è uno struzzo è il disegno di uno struzzo sono un po confuso ok no c'è uno struzzo vero dimmi che cosa sta succedendo deve entrarci dentro sono apparse delle caramelle su tutta l'isola oh mamma mia oh mamma mia aspetta aspetta ho capito un attimo che devo fare entrare capra piuma sono diventato uno struzzo sono diventato uno struzzo tartaruga ninja uno struzzo ninja aspetta posso volare si ma stai volando nell'acqua bro stai volando no 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 tuffa bomba al prossimo video è morto lo struzzo